Ed eccoci qua ragazzi bentornati nel canale di Danix, torniamo con Grave Allora riprendiamo da questo punto, andiamo avanti con l'Off-Road Masters, siamo all'episodio speciale, penso che dobbiamo sfidare uno dei piloti più forti, vediamo un attimo, Stadium Circuit Master Gli altri piloti sono avvisati, nella corsa al titolo di quest'anno c'è anche lui Allora ragazzi vediamo subito, sono tre gare, vinci la gara Parti 1, parti 2 Allora ragazzi io vorrei provare a mettere difficoltà difficile, non so se sia il top provare, però ci proviamo Quindi io andrei, ci dà la Toyota T100, qualcuno di voi mi ha corretto che comunque la Toyota era assolutamente una buona macchina Anzi forse, vabbè quelle bloccate hanno 800 cavalli Questa Ford, questa 850, la nostra 580 V6 Però vabbè comunque non è mai questa Toyota Allora andiamo con questa per forza, perché è bloccata E ci ha sbloccato una livrea, questa nera Ci potrebbe stare questa Questa raggiunge il livello 57 Ci metteremo un'eternità Vabbè andiamo con questa, dai questa nera Delle sfumature rosse Ci sta Allora vedete siamo a difficoltà media Io proverei Proverei anche perché nelle gare all'interno degli stadi abbiamo notato che sono un po' lenti Nelle piste, o comunque nelle piste, nei percorsi aperti sono più forti Io proverei a mettere difficile ragazzi, dai Facciamo un tentativo Allora traccia control, aiuto stabilità Ma possiamo anche provare a spegnerli questi qua, dai Vediamo se riusciamo anche, proprio ragazzi Cioè la vogliamo proprio cercare noi la difficoltà Quindi tutto spento Vabbè la traiettoria la lascio perché non conosco le piste E aumentiamo la difficoltà a difficile Vediamo se gli era famo ragazzi Non saprei dopo difficile, cioè molto difficile Amici e appassionati in ascolto Benvenuti su Gravel Channel Tre sfide testa a testa Questo è quello che ci aspetta Prima di conoscere il nome del prossimo Stadium Circuit Master Per ora una cosa è certa Scott Parker è uno che in queste gare si esalta E chiunque voglia vincere dovrà guidare dannatamente bene per fermarlo Non so voi, ma io non vedo l'ora di vedere come va a finire Che lo spettacolo abbia inizio Ecco quindi dobbiamo arrivare a sfidare Scott Che è lo specialista di queste gare Negli stati Ci proviamo Ah c'è Giamsa E' già qui Scott E' già Ah siamo solo contro lui Pensavo che c'erano anche altri piloti Mamma mia ragazzi Tolto tutto Controllo di trazione E anche La stabilità E' sinceramente molto molto inguidabile Però Proviamo a vedere se riusciamo a stare lì Davanti Per ora siamo primi Ma ci sta praticamente dietro Derapa molto di più adesso Molto di più Scusi Scott Lasci fare un attimo che Proviamo un attimo a stare davanti E' molto inguidabile Forse No non dico il controllo di trazione Forse quello di stabilità Forse ci vuole Perché è veramente Guidabile A dir poco inguidabile Dobbiamo fare dei contrastersi da panico Per stargli davanti Ma soprattutto per Controllare Questo gippone Questa macchina Massiccia Invece che comunque Scott va Sempre qui Siamo Terzo giro Devo ancora prendere L'abitudine Senza Controllo di trazione Perché non ho paura Di esagerare troppo Paura che si giri la macchina E poi perdiamo un sacco di Attenzione Questo mi salta sopra Addirittura Addirittura mi ha saltato sopra Che forse Gliel'abbiamo fatta Sì però C'è stato dietro Praticamente fisso La prima gara è terminata E se queste sono le premesse Nelle prossime due Ci aspetta uno spettacolo Senza precedenti È di quattro decimi Quindi si sente un po' La difficoltà Ma più che difficoltà È difficile controllare La macchina Perché adesso Abbiamo trovato tutto Per gli aiuti di guida Quindi è molto Molto difficile Tenerla dritta Però ci siamo riusciti Andiamo avanti C'è dovrebbe essere Un'altra gara Sempre all'interno Degli stati Vediamo Cosa ci dà Ci dà sempre questa No Ci dà anche La Ford Attenzione Che è quella che aveva lui Mi sembra Ed è nettamente migliore Perché questa è 580 cavalli La T100 Questa invece 800 V8 turbo Questo è V6 No lui forse aveva questa Lasciarevo le Vabbè comunque Andiamo con questa Proviamo anche la Ford Livrei No Non le abbiamo bloccate Sbloccate Quindi andiamo solo con questa Lasciamo tutto così E vediamo se gliela Fiamo anche con questa Ford Ci proviamo Questa è Una forma un po' Particolare Del percorso Allora andiamo subito Siamo sempre contro Scott Ah dovrebbe essere più veloce La Ford Di quella Che avevo prima Però mi sa che forse È anche più inguidabile Adesso questo Perché è più veloce Non lo so Ah qui si gira È particolare Questo percorso Non male che ho messo La Scusi Eh vabbè Mi ha rimesso Lui Ho dato una spinta Da panico No Proprio frenato Attenzione che la pista Non è lunghissima Sono 4 giri solo Abbiamo esagerato Forse Di La Staccata Di questa Curva Dai 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ah però Cristo Ci ha fregato Ha fatto un altro tratto Non lo so Mi ha fregato Abusivamente Eh attenzione Perché sta tirando Eh no Però non mi No vabbè Qua mi ha speronato No qui lo siamo Cioè guarda Vediamolo un attimo Eh mi ha toccato No qui ci sta il rewind Quando è così Vabbè che potremmo anche Ma continua Ho capito che prima Avevo un attimo spinta Però Non esageri con gli speronamenti Se no Se l'avevamo persa L'avremmo riavviata Comunque l'avremmo vinto uguale Ma come ho detto Non è che sono velocissimi Nel dritto Cioè nel dritto In gara E più che altro Difficile controllare Questi Queste macchine Andiamo avanti Vediamo di proseguire Allora siamo sempre qui Con la terza gara Ci da sempre la Ford No Si si ci da Allora aspetta La Ford E questa pure Possiamo usare Vabbè andiamo con la Ford Sempre va Andiamo andiamo vai Questa C'è il rischio di incrociarci Ma Se mi sta dietro Appassionati in ascolto Ci siamo Manca pochissimo Alla partenza della finale Stadium Circuit Master E un solo pilota Tornerà a casa Col sorriso Oggi Sarà il giorno Della conferma Di Scott Parker O quello Della consacrazione Del suo sfidante Nemmeno noi Di Gravel Channel Sappiamo la risposta Ma non vediamo L'ora di scoprirlo Restate con noi Non ve ne pentirete Questa è a forma Di 8 Più o meno Quindi Vediamo Si parte Altri 4 giri Noi tentiamo sempre All'interno Perché come ho detto Cerchiamo di fare sempre Le curve un po' più strette Eh forse la sua è più veloce In accelerazione Perché ci Ci supera facilmente Allora come ho detto Noi Ci buttiamo Anche un po' di cattiveria Ahia qua ho frenato Troppo tardi E infatti Mi frega All'interno Ah Eh Non Sinceramente era meglio La vedicola dritta Mi trovavo meglio Con la Toyota Questa qua non mi sta Ci sta Eh Ci stanno Anche queste cattiverie qua Scusi Parker Ma Speronamenti ci stanno Qua Sono gare un po' Che di aggressività Non ci sono penalizzazioni Non ci sono penalizzazioni Cioè sta tutto Va beh che anche lui C'era molto prima Abbiamo usato Iroiwine Però No mi stava piacendo Di più Cristo Eh vabbè No qua non l'ho usato Iroiwine Perché è un errore mio Eh Era più guidabile Secondo me La La Toyota Pericola dritta Eh Forse è troppo Potente Questa È difficile Controllarla La Ford Questa paura Non mi supera Manco più Perché sa che Se mi supera Diamo una Una botta Che lo giriamo Di cattiveria Attenzione qua Perché prima ci siamo Pantananti Qua nella curva Ok mi sa che Siamo quasi Arrivati Che no No è ancora Lunghetta Ancora lunghetta E qui il traguardo Va bene dai Non l'ho usato Iroiwine Perché Ho detto Un errore mio Quindi va bene così Amici e appassionati In ascolto Abbiamo visto Una delle finali Più combattute Di sempre Ma alla fine Scott Parker Si è dovuto arrendere Proverà a riprendersi Questa corona L'anno prossimo Ma nel frattempo Diamo il benvenuto A un nuovo campione Il nuovo Stadium Circuit Master È lui Va bene Ci danno anche Qualche coppa Non lo so Forse no Ok Ma bene Vediamo Un attimo Ci ha sbloccato Allora L'evento speciale L'abbiamo fatto Ci ha sbloccato L'episodio 3 American Tour Con altre 3 gare Più Diciamo Un mini campionato Da 3 Quindi Partiamo subito Con questa All'interno di uno stadio Vediamo cosa ci da Allora Ci da La Mitsubishi ASX Oppure La Shrebole Hammer È l'hammer L'hammer Pure Però Sinceramente L'hammer Mi sa che è massiccio Anche se Ha 400 cavalli Questo è 350 Ma mi sa che Sono tentato di andare Con la Mitsubishi Ragazzi Perché questo hammer Mi sa che è Troppo massiccio Dai proviamo con La Mitsubishi Va Puoi se Non gliela famo Proviamo con l'hammer Va Come ho detto Bisogna anche un po' Fare un po' Di prove Perché Adesso stiamo giocando Anche la difficoltà Un po' altina Quindi Vediamo Senza aiuti Di controllo Trazione Tutto Tutta l'adrenalina Delle nostre gare E tutto l'entusiasmo Di uno stadio Al gran completo Se anche ci provassi Non potrei immaginare Niente di più esaltante Appassionati in ascolto Benvenuti Offroad Masters Arriva a Los Angeles E la prossima gara Ha tutte le carte In regola Per essere memorabile Restate con noi Non vi deluderemo Sta Mitsubishi Ma Ci sono anche Mini Un Hammer Pencil Davanti Bella quella rossa Però camminate Perché se no Non gliela famo A superarvi E mi sa che Siamo peretti male Perché ci hanno Un attimo Vedete che comunque Le gare negli stadi Cioè Siamo messi Ad i fitch Sono lenti Se la prendono Con comodo Le curve Ma vabbè Vediamo se riusciamo A prendere i primi Perché partendo da L'ultimo posto Non è facile A fare sorpassi Qua Sicuramente Sicuramente Non è velocissimo Questo Questo Poco ma Sicuro Infatti c'è L'hammer Davanti Però Morris C'è Morris Sì Sì Negli stadi Non sono eccezionali Secondo me Nelle piste aperte Comunque Nei percorsi aperti Sono più Aggressivi Secondo me Secondo me Ho fatto bene A prendere questa L'hammer È troppo massiccio Non mi Non mi attirano Macchine massicce Questo Mitsubishi Secondo me Può dire La sua Anche se L'abbiamo Già massacrato Davanti Però Non è malaccio Vediamo Se riusciamo In altri percorsi Ad essere sempre primi Poi Piano piano Poi mettiamo Anche la Massima difficoltà Non tanto Facciamo sempre così Già adesso Ho messo difficile Ce ne stiamo Andando anche Siamo adesso All'ultimo giro Ragazzi Sì Seguida bene Seguida bene E abbiamo Tutti gli aiuti Tolti Non mi sta Dispiacendo Questa Molto più guidabile Di quella che avevamo Prima Che era Incontrollabile Anche Le curve Dera prova Ce ne siamo andati Alla grande Ragazzi Questa si poteva fare Anche con la massima Difficoltà Secondo me Si chiude Un'altra puntata Di Offroad Masters Ma non disperate La prossima settimana Saremo ancora qui Su Gravel Channel Per darvi sempre Il massimo Dello spettacolo Siamo arrivati Siamo arrivati I primi C'era anche qualcun altro Che aveva la nostra stessa macchina Ma non è andato Un gran che Andiamo avanti Con la seconda gara Teniamo questa Perché mi sta piacendo C'è sblocato Al 320 Ma noi proseguiamo Questo Questo Vedete Questo è già Percorsi Ah ci dà Una nuova macchina Ci dà La Abarth La Abarth 131 La Fine Che non era male Poi abbiamo La Toyota La Mitsubishi No No Questa è un bloccate Subaru Allora La più potente Penso che sia questa No 230 Proviamola Dai Proviamo questa Dai Proviamo la Toyota Vediamo Come va Dai Vediamo Ci dà questa Facciamo questa Da fare un po' Di tentativi Come ho detto Con le macchine Che ci sono Ce ne sono tante Quindi C'è anche la BMW Vediamo Questo è un percorso Classico Ecco qui Sono forti Perché Su strada aperta E tirano E negli stati Che sono lenti Da quello che ho notato Vediamo Vediamo Se riusciamo Ah è a tempo Non ho letto Sì Forse è a tempo Ah Capito Non ho neanche letto Sinceramente La descrizione Della Gara Non ci ho fatto Cazzo Ma è probabile Che Vabbè Vediamo Vediamo Se lì È la fame Quindi Dobbiamo Prendere Le frecce Penso Dei Se Aia No Cristo Ah Ok Non lo sapevo Pensavo Che anche se Non passavi Nelle Croci Ti dava La possibilità Di passare Più Largo No Dobbiamo Passare Nelle frecce Va bene Allora Occhio Perché qua Non usciamo Questa Di visuale Che se no È troppo Zoom Atta Sono Siamo qua Però Sei maledetto Quando cambi così Non mi piaci Tienimi Tienimi Sempre In un punto Per un po' Poi Andrò di cambiare Cambia Perché se no Guarda qua Guarda qua Vai Allora Tutto liscio Come l'olio Va bene Va bene Va bene Dai Va bene Sto anche frenando Troppo Secondo me Eh scusate Se parlo poco Ragazzi Ma questa Anche la tosta Perché basta Che sbagli Per un sacco Di tempo Eh vabbè Qua sei maledetto Però eh Devi lasciarlo Dall'altro lato La freccia Poi qua Non mi piace Eh abbiamo preso La X Ci rallentano Le X Vabbè Vediamo un po' Ah ok L'abbiamo fatta Eh è stata difficilotta Questa l'ho dovuta fare Un paio di volte Due volte Perché Era difficile Vabbè Comunque Ok questa è fatta Andiamo avanti Allora vediamo Allora vediamo Allora vediamo La proseguita bene Dai non era Ammalaccio Questa Che abbiamo usato Adesso La prossima È un campionato Allora vediamo Ci da sempre Questa Se ci da sempre Questa La tengo Dai Non mi è dispiaciuta Vediamo La livrea Magari No Meglio Questa Di livrea Quella che avevamo Prima Questa Toyota Non mi dispiace Non mi dispiace Facciamo questo Mini campionato E vediamo Spero siate abituati Al caldo Della Florida Perché la gara Di oggi Si annuncia Infuocata Lo stadio È pieno E i nostri Piloti Non vedono L'ora di scatenarsi Offroad Masters Torna sui vostri schermi E lo fa Alla grande Restate con noi Non vi deluderemo È troppo Fanghiglia C'è In queste Dove c'è Lo stadio Queste piste Dove ci sono Gli stadio È troppo fango Meglio farle piano Le curva Dai Perché se no Tanto sono Pure lenti Guarda Siamo già Già A secondi C'è anche Qualcun altro Che ha la nostra Macchina E allora Hanno le Le Abarth Questa qui Però come ho detto Noi cerchiamo Sempre di vincere Tutte le gare Possibili Piano che qua Se tocchi i muri Incolli Ok Ma come ho detto Voglio provare A fare il massimo In ogni gara Cioè Prendere le stelline Il massimo Di ogni gara Quindi Sono tre stelline In ogni gara In teoria Dovremmo vincere Tutte Meglio frenare Se lo andiamo dritto Ma come ho detto Si guida bene Solo che qua In queste gare qua Dove ci sono All'interno degli stati Troppo pesanti Percorsi Sono Molto Fanghiglia Ok E' nettamente Più Potente Questa macchina Ma secondo me Possiamo già provare A mettere Difficoltà Massimo Difficile Però Andiamo avanti 25 punti Proseguiamo Andiamo con la Seconda gara Speed cross Su asfalto Questo Quindi vediamo Se si comporta bene Anche sull'asfalto Questa Ah E' una gara eliminazione Questa Ok Devo stare attenti A non farci Buttare fuori Attenzione Che cosa E' andato A muro Sono quarti Stretta pure La La strada qua C'è un po' Di sterrato No Non derapare Così Non derapare Così Che già Non Mi sta piacendo Per niente Scusa Eh i primi I primi due Se ne stanno andando Però E' difficile Partire ultimi E andare a riprendere Perché poi No Però derapa Troppo Sta derapando Troppo Per i miei gusti Questa qui Se riusciamo ad arrivare Vabbè Non è necessario Vincere Perché comunque E' un campionato Quindi Magari se arriviamo Secondi Va bene Uguale No Non gliela fam Ma questi due Non riesco a prendere Ragazzi E abbiamo comunque La macchina nettamente Più veloce Di loro Oddio L'ho fatto Volare Ehi Perché c'è Quella Abarth Che è molto Leggera Rispetto alla nostra E' massiccia Quindi Facciamo Decollare Abusivamente Ma il primo Mi sa che non lo prendo Se ne è andato Di brutto Gli era Fa troppo Cristo Però Mi piace La tenuta Sennò Perché forse Stiamo usando Il potere di trazione La stabilità Spento Ma Sembra che stai guidando Nel sabone Qua No Il primo Non lo prendo Più Vabbè Vediamo Se arriviamo Secondi Va bene Uguale Non ce la faccio Molto veloce E vai A muro Nelle ruote Di sicurezza Più in pieno Le opere Tra l'altro Abbiamo anche I danni Al massimo Attivi Quindi Ci distruggiamo Pure la macchina Siamo al posto Sinceramente Non mi piace Né che la pista Il prossimo Che sarà eliminato È questo Che ho dietro E poi Noi Perché il primo Se n'è andato Quindi Non lo prendiamo Più Il primo Se n'è andato Abusivamente Quindi siamo noi I prossimi No Un altro No no Siamo noi Siamo noi Eh vabbè Ma mi va bene Quale Il secondo Non mi dispiace Dai Se poteva fare Di più Non lo so Siamo difficile Quindi non è facile Sta lì Sta lì Vicino Questi qua Vediamo poi La classifica Del campionato Come siamo messi Vabbè Ma siamo arrivati Secondi Dovevamo per forza Vincerlo Non l'ho capito Vediamo No No Siamo arrivati Secondi Quindi ci da Eh attenzione Siamo a pari punti Eh Erison Ci sta lì Eh Dovevamo assolutamente Arrivare lì davanti E vinciamo il campionato Ultima gara Eh Se n'è andato Il primo Non riuscivo più A star lì dietro Qui in Alaska Comunque i percorsi Penso che sono sempre Le stesse Dobbiamo darvi uno spettacolo All'altezza di questo nome E lo abbiamo fatto Qui tra le montagne Dell'Alaska Abbiamo organizzato Una gara Che vi lascerà Senza fiato Appassionati di offroad In ascolto Siete su Gravel Channel Restate con noi Non ve ne pentirete Dobbiamo ottenere D'occhio Erison Che è il nostro Rivali in campionato A pari punti Se li arriviamo davanti Siamo A posto Abbiamo detto Il campionato Dove è Erison? Mi sa che è pure primo Mi sa che è pure primo Sono più Abarth qua Che E Toyota Sì Eppure primo Guardalo là Scusi Erison Ma adesso Siamo noi più veloci Che quella pista Proprio non mi andava giù Neanche con il digestivo E poi quello che non ti veniva a prendere Se no Adesso te piglio E ci resti dietro Non è vero Ci sverniccio all'interno Sono speroni Eh tira eh Tirano eh E che salti Che salti qua A parte quello che l'ho fatto Volare Eh mi sa che ci frega Sto cavolo di Erison Erison Cioè nella carta Abbiamo noi La macchina più veloce Di quello Sa parte di tutto Però Fisco come Cristo Eh mi dispiace Erison Ma Noi ci buttiamo Di cattiveria Non so Ma Abbiamo perso un botto Di posizioni Però vabbè Eh sono molto più combattuto Adesso Le gare Mi sa che Sarà difficile In certe strade Difficio No il primo se n'è andato Anche qui Secondo non lo so Vediamo No siamo arrivati Siamo arrivati Terzi Vabbè vediamo Se abbiamo vinto Il campionato E va bene uguale Eh ci ha fregato Quella curva Perché siamo entrati Troppo di cattiveria E non l'abbiamo più preso Fumogeni Sportellate E adrenalina Chissà perché Le nostre gare A checkpoint Vi piacciono così tanto Allora Erison arriva a sesto Alla fine Però Vinciamo il campionato Di Sette punti Quindi Va bene così Tanto è un campionato Non ci interessava Arrivare i primi In ogni gara Importante Vincerlo Ok Vabbè ragazzi Io direi Che ci possiamo Salutare Anche questo è fatto Quindi Fatemi sapere La vostra Come sempre Commentate Condividete Iscrivetevi al canale In descrizione Trovatevi la pagina Facebook Twitter Google Plus Noi ci vediamo Al prossimo video Saluto a tutti Da Dex0689 Noi ci vediamo